Sì, ormai è un'iniziativa che comincia ad avere una sua storia, quindi dobbiamo dire grazie agli studenti che hanno organizzato con la nostra università queste iniziative. Quest'anno i numeri dimostrano un'importanza crescente, 80 delegati provenienti da 30 paesi, 4 continenti coinvolti, quindi crediamo che sia un'iniziativa destinata a CRIS, l'università farà sempre la sua parte in appoggio a questa iniziativa e tra l'altro che è singolare perché in realtà queste tematiche normalmente sono affrontate dai professori con il coinvolgimento degli studenti, invece in questo caso il contrario, sono gli studenti che organizzano le proprie sessioni e che di volta in volta invitano i professori su tematiche specifiche. Quindi questo è anche un modo per conoscere quello che ci riguarda da vicino e che riguarda il mondo delle Nazioni Unite ed è anche un modo per sensibilizzare i nostri studenti verso tematiche dell'internazionalizzazione. Grazie